Arturo Pellizzon, presidente di Istoria e anche segretario provinciale della CISL. Oggi a Cercivento per una conferenza sulla Prima Guerra Mondiale. In particolare, tu Arturo, ci vuoi raccontare quello che non ci hanno mai raccontato? È un'impresa molto ardua, in realtà c'è una grandissima pubblicistica sulla Prima Guerra Mondiale. Io questa sera cerco di mettere in luce alcuni aspetti per cui parlerò dei bambini, parlerò delle donne, parlerò dei prigionieri, di persone fatti masse che sono ai lati della storia ma che l'hanno fatta con grandi sofferenze anche in un'avventura così dura. Arturo, un'altra domanda. Quali avvenimenti si sono svolti anche sul Passo Monte Croce Carnico e sul Pal Piccolo? Sul Pal Piccolo, Passo Monte Carnico, Freikoff, il Pal Grande, nel fronte carnico. Era un fronte di alta quota in cui in prima linea dalla parte italiana avevano circa 12.000 uomini, per cui è un fronte in cui ci sono stati grandi fatti d'arme, grandi sacrifici, perché ovviamente vivere poi in alta quota in guerra è stata un'esperienza unica, non ci aveva mai provato nessuno. e grandi masse si trovarono a affrontare questi inverni. Qui la guerra è stata di episodi anche piccoli, di grandi eroismi, di grandi sofferenze. Direi che si confrontarono anche due modi di vivere la montagna. La guerra qui ha lasciato anche importanti tracce che se qualcuno vuole venire a visitare può ancora trovare, passeggiando, recandosi in alta quota, nei baraccamenti, nelle trincelle, nelle postazioni, perché era talmente difficile combattere in questi luoghi che man mano sia dalla parte austriaca che dalla parte italiana si tentò di fortificare il fronte.